progetti per il futuro per seab seab adesso ha questo lavoro importante che è quello di affrontare una nuova avventura quella di servire l'intero territorio provinciale per quanto riguarda i rifiuti si definisce ambito provinciale e questo lavoro è sicuramente impegnativo perché stiamo in questi giorni organizzando il servizio per territori che noi non abbiamo fino ad ora serviti. Ci citi qualche comune? Sono Trivero, Valle Mosso, Mosso, Valle San Nicolao, Bioglio, Mezzana. realtà diverse tra di loro. Sono realtà diverse con necessità diverse con impostazioni in questo momento di raccolta diverse alcuni hanno la domiciliare alcuni hanno semplicemente i cassonetti come di tradizione e il nostro obiettivo è quello di intanto partire servendo questi comuni senza che si colga nessuna differenza. Si noterà esclusivamente l'adesivo sui mezzi che ha una denominazione, una ragione sociale diversa rispetto a quella attuale. Poi l'obiettivo, visto che siamo un'azienda pubblica e il nostro obiettivo è sicuramente anche quello di far crescere un territorio in termini sociali e in termini di civiltà, sarà quello di affrontare con ogni singola amministrazione quali sono le loro necessità ma l'obiettivo è anche quello di portare il più possibile ad una raccolta e servizio dei rifiuti omogeneo su tutto l'ambito provinciale in modo da ottenere i risultati che abbiella anche sul resto del territorio biellese. Bene, ringraziamo il Presidente di SEAB Claudio Marampon, Paolo Labua, Newsbiella.